Ciao Valentina, ciao Paolo, ben trovati. Allora, di che cosa vi occupate nella vita? Io sono un medico, ho vissuto per 30 anni in gli Stati Uniti, adesso sono tornato in Italia, mi sono sempre occupato di oncologia e adesso il mio desiderio è di aiutare le persone a stare bene attraverso una nutrizione appropriata. Io faccio una cosa che si chiama medicina funzionale. Io sono un health coach, sono quindi una consulente alimentare che si occupa di guidare le persone a conoscere gli alimenti per migliorare il proprio stato di salute. Le guido proprio nel day by day alla ricerca delle informazioni pratiche che mancano nel tradurre la teoria appunto in pratica, quindi mangiare meglio ma come faccio, dove vado a comprarmi le cose, quindi li porto a comprare gli ingredienti, scopriamo gli ingredienti nuovi, soprattutto li cuciniamo in una maniera facile, perché a me piace mangiare ma non tanto cucinare, quindi deve appagarmi ma deve essere velocissimo. E cosa farete qui in Citizen? Beh, io direi che io mi occuperò della teoria e la pratica ve l'ha fatta da Valentina, quindi lavoreremo insieme, parleremo di vari aspetti del mangiare, del cibo e della nutrizione umana che è così complicata e così confusa, per cui cercheremo di fare un po' di ordine. Sì, nello specifico parleremo di esempi, quindi esempi di ricette, esempi di alimenti, trucchi per sopravvivere, per rendere e massimizzare il tempo nelle proprie giornate, quindi tutte le informazioni pratiche che servono per trasformare le informazioni teoriche in pratica. Bene, grazie, ci vediamo in Citizen allora. A presto. Ciao.